Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Shara e sono una studentessa del secondo anno del corso di laurea magistrale in chimica. Ho scelto di intraprendere questo percorso perché da sempre affascinata dal mondo delle scienze e all'Università degli Studi dell'Insubria ho trovato un ambiente amichevole e accogliente fin da subito, dei professori molto disponibili, dei laboratori di ricerca ampi e ben attrezzati e dei tutor sempre pronte ad aiutare e a dispensare degli ottimi consigli.